Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, perdonatemi l'assenza di ieri ma purtroppo stavo commentando la E-Champions League sul mio canale viola per cui non sono riuscito a portarvi la preview dei Toz e la Ligan però mi faccio subito perdonare perché ieri ho fatto praticamente le 3 di notte, li ho presi tutti, già li ho provati e quindi sono prontissimo nell'andarvi a fare le review gameplay ok, il recapino statistico di questi primi 3-4 giocatori e poi capirete perché il barra ovviamente sarà un pelino più lungo visto che ci andiamo ad analizzare per la prima volta ovviamente potrò commentare in maniera più adeguata le statistiche visto che questi giocatori appunto li ho testati andiamo subito a vedere quelli che sono i primi 3 ovvero André, Aouar e Bamba vi dico che in generale questi Toz e la Ligan un po' mi lasciano perplesso ma questi sono dei bei giocatori ma andiamo a vedere nello specifico quindi passiamo subito sulla schermadina di gioco primo giocatore che ci ritroviamo davanti è proprio Benjamin André 1,80m, alto alto, piede destro, 3 di skill e 3 di piede debole guardandolo così già vi dico che per quanto riguarda quell'alto alto si sente veramente veramente bene un parametro che lo fa trovare sia in avanti che in ripiegamento veramente onnipresente sto André per quanto riguarda invece il 3 di skill e il 3 di piede debole è un qualcosa che mi lascia un po' perplesso purtroppo perché sapete che in mezzo al campo è importante quantomeno avere un 4 di skill per fare una mossa abilità almeno un tacco tacco insomma in maniera adeguata e un 4 di piede debole in maniera tale da non sbagliare quelli che possono essere i passaggi in uscita quindi questo non è proprio al top per una carta che comunque non costa tanto per quanto riguarda invece le statistiche vi dico che quel parametro di velocità è assolutamente real io l'ho ritrovato veramente molto scattante soprattutto palla al piede mi è piaciuto anche tantissimo il suo controllo palla perché quell'88 di agilità e 92 di forza sono parametri eccessivamente boostati che poi non si vanno a tradurre effettivamente in game in un aumento di quella statistica così notevole di fatti questo anche quando lo muovevo con l'analogico vedrete poi dopo come una trottola vi assicuro veramente si roteava che era una bellezza in particolar modo mi sono piaciuti tanto i suoi passaggi in particolar modo ho apprezzato quelle che sono le sue doti difensive visto che hanno 86 di lettura difensiva 93 di intercettazione tant'è vero che me lo ritrovavo sempre 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 sulle linee di passaggio sempre 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 aggressivo recuperava un buato di palloni veramente un bellissimo giocatore tiro non ho avuto modo di testarlo perché l'ho utilizzato dal cc o cdc in un 4 424 231 la domanda già so qual è è meglio di renato no per i precedenti motivi ossia per il fatto che comunque ha 3 di skill e 3 di piede debole però è una valida alternativa sì soprattutto visto il costo e soprattutto visto che renato appunto un giocatore vecchio magari qualcuno non l'ha sbloccato e vuole un giocatore francese all'interno magari della sua squadra per il centrocampo e questo andrei fa tranquillamente al caso vostro un voto finale direi un bellotto meritato 7 e mezzo 8 direi secondo giocatore ussemo awar anche lui giocatore pazzesco e poi vi dirò bene il perché un metro e 75 alto normale ma è come se avesse alto alto perché fa entrambe le fasi in maniera eccellente ed impeccabile piede destro 4 di skill e 4 di piede debole quindi qua rispetto ad andrei siamo molto posizionati su attributi più in meta rispetto al 3 3 parliamo di un giocatore sbc quindi che dovete sbloccare però non costa tantissimo costa più o meno su 250.000 crediti e con tutte quelle che sono le diverse sbc appunto riempibili con le carte che abbiamo nel club questo lo si paga non tantissimo ed è veramente secondo me un affare velocissimo non ho avuto modo di provare la sua finalizzazione del suo tiro ma sono sicuro che sfruttato soprattutto da mezzala in un rombo lo sentite quel parametro ottimi i passaggi agilissimo come vi dicevo sembra che abbia alto alto di fatti l'ho ritrovato veramente fastidioso su quelle che sono le lie di passaggio si attaccava bene all'uomo intercettava quindi ha avuto veramente un sensibile boost statistico in difesa anche perché voi vedete un 83 ma potrebbe essere tranquillamente un parametro più alto visto che ha 73 di testa e 72 di scivolata che è quello il problema principale che va a abbassare la statistica però fondamentalmente il giocatore è un giocatore che meriterebbe qualcosina di più per quanto riguarda forze aggressività abbiamo 83 82 con l'82 non l'ho sentito perché ripeto un sacco di volte si è andato ad agganciare ai giocatori avversari in automatico e devo dire che questa war mi è piaciuta davvero tanto è meglio di renato probabilmente sì visto che arrivati a questo punto del gioco comunque quella carta renato diventa un po' outdated un po' antiquata soprattutto per quello che è il prezzo di questa war ottimi link perché è francese ruolo consigliato ripeto cc cdc in un 4 4 2 4 3 1 o da cc all'interno di un rombo al cc si può provare però secondo me sarebbe un peccato non andare a sfruttare le sue spiccatissime doti difensive utilizzandole esclusivamente da cc così come eviterei anche di utilizzarlo da esterno visto che comunque è un giocatore che ha le gambine e non ha quel body type esplosivo per fare la fascia penultimo giocatore jonathan bamba anche qui parliamo di un giocatore che mi ha colpito perché abbiamo un metro e 75 alto alto piede destro 5 di skill e 4 piede debole quindi tutti i parametri che sono assolutamente in meta rispetto a quest'anno prezzo anche per bamba non eccessivo abbiamo un giocatore velocissimo e vi devo dire che si sente veramente tanto 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 stra agile palla al piede si busta che è una bellezza prende veramente metri e metri di campo quando parte con con l'l1 l'ho trovato anche incisivo per quanto riguarda la finalizzazione perché si buttava bene dentro dentro l'area di rigore arrivava a calciare con i classici tiri e incrociare dell'esterno in maniera veramente veramente giusta ottima per quanto riguarda il ruolo di seconda punta anche l'ho testato con il 5 di skill devo dire la verità che non mi ha deluso visto che parliamo di un giocatore molto reattivo palla al piede quindi devo dire che bamba è un giocatore praticamente rinato con questa versione anche degli ottimi passaggi quindi super consigliato bamba se avete bisogno di un esterno sinistro francese penso se a questo punto sia il migliore in assoluto all'interno del gioco probabilmente si vanno appena la sua versione speciale della champions quindi bamba stra consigliato concludendo due paroline su kim ben pe kim ben pe sicuramente arriveranno domande ma come al solito ragazzi parliamo di una carta questo obiettivo per cui è gratuita tanto vale sbloccarla poi parliamo di un giocatore che statisticamente è ottimo perché è molto rapido ha dei gran passaggi ha un'ottima agilità statistiche difensive sopra sopra la media veramente fuori di testa 93 di forza e 97 di aggressività insomma sono tutti parametri che lo rendono uno dei giocatori difensivi sicuramente più in meta di quest'anno calcolando proprio il ruolo di dc poi è chiaro ce ne sono veramente tanti dc attualmente quindi la differenza la fanno veramente i dettagli e vi ripeto visto che questa è una carta non scambiabile che prendete facendo un paio di obiettivi fateli testatelo e vedete come vi trovate quindi fatto questo recap statistico io passerei sulle clip di gioco che ho registrato e partirei proprio da benjamin andrei guardate questa sequenza di gioco io sto tenendo a guardo guardate andrei come in maniera automatica si sia fatto praticamente tutto questo triangolo di campo tra gli avversari che scambiavano seguendo l'ipotetica linea di passaggio recuperando il pallone quindi questo primo intervento automatico da parte di andrea qui invece ne apprezziamo le doti controllo del controllo palla palla al piede vedete com'è rapido nel girarsi questo è fondamentale per poter guadagnare momentum in attacco e imbucare al momento giusto i nostri giocatori quindi questa questa dinamica di andrei portatore di palla anche mie mi è piaciuta qui guardate ancora una volta mentre io stavo selezionando il il terzino andrei legge la situazione va a recuperare questo pallone esattamente in automatico ve ne accorgete perché io vedete o l'indicatore su claus mentre andrei va a fare questa diagonale su bull it recupera il pallone qui ancora una volta guardate come si attacca bene all'uomo recupera palla poi col bari centro basso resiste anche a quella carica senza senza inciampare qui invece passiamo a guardare a war a war come vi dicevo a uno spiccato senso dell'intercetto della posizione guardate qui su questa uscita dalla difesa di varan arriva a war come un treno a mettere il piede per poco non innescava una ripartenza fulminia qui guardate mentre controllo andrea war va a mettere il piede e poi in seconda battuta guardate andrei come si frappone subito con un intervento automatico che sto tenendo semplicemente le due e lui ha messo il piede qui ancora una volta io stavo controllando in questo caso a war però la distanza era discreta tra lui e fellini ha allungato il gambone per andare a intercettare questa questa palla qui in quest'altra situazione invece mentre controllo andrei vedete a war che va a fare questa diagonale in automatico davanti a bappe per recuperare palla passiamo a bamba bamba che come potete vedere ho giocato da esterno destro ovviamente guardate lo speed boost guardate come prende bene campo guardate come controlla benissimo il pallone e salti l'avversario anche solo allungandosi la sfera qui ancora una volta in fascia per apprezzarne lo speed boost guardate come lascia sul posto il diretto il diretto marcatore controllo palla veramente impeccabile tiene palla incollata al piede soprattutto quando fa le finte la suola il tacco tacco qui ancora una volta una cavalcatona di bamba che semplicemente tiene la palla vicino al piede e salta gli avversari come se fossero dei dei birilli qui un'altra un'altra sequenza perché già mi avete chiesto se sto bamba reggeva fisicamente guardate qua gli arriva jones come un toro bamba con il fisico lo sposta e va a concludere qui l'inserimento che vi dicevo in fascia con appunto vedete la classica azione a scaletta il movimento automatico di bamba che si va a inserire dietro al terzino e poi va a finalizzare con il piede destro il più facile diciamo dei diagonali però bisogna arrivarci in quella posizione per poter essere letali quindi ragazzi ricapitolando questi tre giocatori mi sono piaciuti tanto devo dire sia andrea war che bamba voti un po per tutti facciamo sette e mezzo per andrea otto più per a war è un bell'otto e mezzo per bamba vista anche la sua versatilità versatilità nei ruoli offensivi kim ben pe invece sbloccatelo perché ripeto una carta gratuita quindi tanto vale testarla e poi vedere se vi piace o meno quindi questo per questo primo appuntamento è tutto io vi ricordo come al solito che in descrizione trovate il link per la piattaforma viola dove sono live tutti i giorni soprattutto anche a testare questi giocatori mi raccomando lasciate un like un commento fatemi sapere cosa ne pensate di questi players fatemi sapere se li proverete se li avete già provati io vi auguro una buona giornata un saluto nel vostro liberoschi ciao